Sato Giorgio Pagolta si chiama Alberto Monti il primo del terzo momento a sinistra pronti per la partenza lanciata procedono lentamente partenza da rifare allineamento non è uscito si trova indietro si è rimutinato padre di Andrea allineamento sempre è uscito procedono lentamente partiti eccoci di ben piedi di giatura è più difficile non si sta subito non c'è relax vedete il primo dei due Alberto Monti mi ha già avuto la piaccia terza l'uomo già in testa si è vinto D'Arnaviti mi ha già avuto la piaccia Casto Giallo numero 28 esattissima sui controlli mi ha dato a Monti mi ha dato a Monti anche oggi terzo uno qui uno 26 ecco qua un uomo di testa guarda l'uomo di secondo uno qui terzo quattro Daniele Piscaglia quinto Dicavola Piscaglia e poi il 4-1-1 di Comizio Tassi e poi il 5 di Alcara Stryker il numero 2-1 di Giuseppe Casanola seguito al piede è più difficile il muoto ciclistico sforzi maggiori da parte dei piloti sotto il monumento del marinaio con il suo leader Roberto Monti di 1-3-1 lo vedete domicilano di saccarsi due dagli altri Pietro Aldera Vini vediamo la scelta per la Pietra Vino in alta testa esterno per Alberto Monti esterno per Aldera Vini preferisce fare la lepre quindi seguirela se siete la vicinanza del disco stretto ci sono 2-3 secondi da sono tutto che contano Alberto è un'altra che faccia non libero ma un'altra di scelte e dopo 4-9-9 dentro le di stadio appiccati per questo il numero 2-1 ecco qua ha detto molto in testa per il 1-1 28 tra Vini secondo in alto bagà tra la mia di scelta di 2-1 terzo Ugo Guibini e si troppa e fate non una no a tenere la posizione rispetto a tutti la pistagna che è troppo da dentro e lo morte lo morte da dietro all'interno passa eccolo qua di gol di scelta sembra anche questo 8-4 ma ora Ugo Guibini si trova in terno è tutto scelta per muo ma esce esce bene esce da per gol quindi passa le gol quarto è un'unica di scelta di tutti i posti pure sinisteremo avantiato con la rete successiva di la rete quindi la posizione l'unica avanti l'avanti l'avanti l'anzali la prima famiglia, la mia è precisamente, riesce a tenere la terza posizione, l'ultima guarda, il nuovo valore, passa prima, l'ultima manca di noi, abitato molti, segui, Andrea Vito, l'ultima posto, l'ultima, 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 l'ultima l'ultima, 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 l'ult Grazie a tutti. Daniele Piscagna, 1-19, avvita parte di noi, ora, il giro di Piscagna, 1-18, 4-4, eccolo qua. Il riso stretto con il leader, avvita parte di noi, passa ogni piedi, in tutta posizione, il riso stretto con il momento, il riso stretto con il momento, il riso stretto con il momento, il riso stretto con il piano di stasi, Andrea Bili, questa famosità per raggiungere questo vito nelle volte d'acqua in Italia, si chiama Alberto Monti, a vivico, tutto, con la voglia di vicini e tre, forte, quindi tra gli altri due, altri due appena, sono 3-4 secondi di istante, l'esperienza con l'agravese dell'interno Cilipunale, la potrebbe essere sbagliato, la potrebbe essere sbagliato, la potrebbe essere sbagliato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.